i 20 a 16 si arriva così al match point con le piacentine che sono in vantaggio di 4 punti la battuta Perani, la ricezione di Busetti, palla ancora in attacco per la Busetti che mette un bel diagonale 20 a 17 in battuta Raccagni, finalissima del 3x3 femminile, ancora match point l'attacco a banda, non passa ed è 20 a 18 attenzione, la battuta ancora per le brisciane, Raccagni in battuta, palla a banda ancora per Villa che passa questa volta ed è 21 a 19 con la vittoria per le piacentine, il saluto sotto rete, è stata una bellissima finale vincono il big redone nel 3x3 femminile senior, Guglielmetti, Villa e Perani